Dalla Repubblica Dominicana all'Italia, passando per la Spagna. Questo è il percorso messo a punto da un'articolata organizzazione criminale per il traffico di cocaina che dal Centro America ha rifornito tra il maggio 2011 e luglio 2012 il mercato della droga del bel paese attraverso uno snodo strategico presente nel Valdarno Aretino. A far saltare la ragnatela di trafficanti e spacciatori è stato il nucleo investigativo dei Carabinieri di Arezzo che al termine di indagini durate anni ha portato all'arresto di quattro persone in flagranza di reato di cui due all'aeroporto di Venezia e uno a Fiumicino e all'individuazione di altri 27 soggetti italiani e stranieri indagati a vario titolo per spaccio e traffico di sostanze stupefacenti. L'organizzazione, che aveva il suo fulcro proprio nell'Aretino, si articolava in strutture operanti a Santo Domingo e Madrid che approvvigionavano il mercato della droga dell'Aretino ma anche di Perugia, Pordenone, Udine e Treviso. Proprio in Valdarno risiedevano i due soggetti di origini dominicane, un uomo e una donna, soprannominati rispettivamente Richard e Vicina che negli anni avevano costituito, diretto ed organizzato l'associazione criminale dedita non solo al traffico di cocaina ma anche ad altri reati, tra cui il riciclaggio di denaro. A collegare i tre paesi era una fitta rete di corrieri che ogni settimana o 15 giorni facevano la spolla trasportando grandi quantitativi di cocaina. Gli uomini la ingerivano, le donne la occultavano negli organi genitali. Lo smercio non riguardava pochi grammi ma etti e chili di cocaina che garantivano ai membri dell'organizzazione ingenti guadagni. Come ampiamente testimoniato dalle intercettazioni telefoniche, dagli arresti e dalle dichiarazioni degli indagati, il fenomeno aveva una dimensione molto vasta e contava su una rigida divisione dei compiti tra gli associati. Pienamente inseriti nell'organizzazione erano anche gli acquirenti abituali, sia nella provincia di Arezzo che in Umbria, Veneto e Friuli, Venezia Giulia. Non tutti sono stati identificati ma secondo i carabinieri l'attività di acquisto rappresentava un contributo causale volontario alla realizzazione del profitto per il sodalizio criminoso. La droga veniva pagata al termine delle vendite sul territorio nazionale e i proventi venivano fatti transitare su money transfer intestati a cittadini dominicani compiacenti che provvedevano a girarle ai fornitori spagnoli.